Anni e Mattia, complimenti Anna, la parola ad Anna anche di questa esperienza, ma sì, sì, Anna, un po' meno, oh Mattia, lo so. Geniale. Allora, Anna, la fiction, la realtà. Eccoci, eccoci, veniamo qua, siamo pronti a capire il foto. Nulla, è stata un'esperienza bella, che ha fatto unire diverse classi, che diciamo, tutti noi facevamo parte di classi diverse. Non ci conoscevamo, quindi è stato anche un modo per fare amicizia e un modo per imparare nuove cose che potrebbero essere utili anche in futuro. Grazie, Anna. L'ultima parola al mio dirigente, che ringrazio per la grande opportunità di aver coinvolto la nostra scuola in questo progetto. Bene, io ringrazio l'associazione MOXI Comune di Legnago per l'opportunità che è stata data di vivere all'interno della scuola questo progetto e auguro a tutti gli studenti presenti di trovare la propria strada della vita, tenendo conto che volare in alto significa avere anche a volte delle cadute, ma quello che ci qualifica, quello che ci differenzia è come noi reagiamo alle nostre frustrazioni e anche a come riusciamo a supportarle e a sopportarle. Quindi un grande augurio di un futuro strutturoso a tutti. Grazie per l'interno.